Dopo aver fatto tre riflessioni previe per entrare dentro nella logica del decalogo, oggi finalmente iniziamo ad esaminare i testi. Quando eravamo ragazzini ci hanno fatto imparare i dieci comandamenti dicendoci che i primi tre erano per Dio e gli altri sette erano per il prossimo. Non è esattamente così, sono tutti per noi. Capiremo che anche esaminando questi comandamenti che vengono chiamati comandamenti per Dio, di per sé non sono per lui, ma sono per l'uomo, perché l'uomo abbia dei punti di riferimento di un certo tipo e sappia gestire dei rapporti anche con il trascendente in un certo modo. Altra piccola osservazione. Quando noi dialoghiamo con i nostri fratelli protestanti, dobbiamo sempre tenere presente che il numero è sempre dieci, ma i numeri non corrispondono. E allora io vi ho fatto lo schermino in modo che non ci siano equivoci. I cattolici si sono ispirati ad Euteronomio 5, per cui noi abbiamo, linea 24, linea 25, la proibizione del desiderio della donna e la proibizione del desiderio delle cose, mentre invece i nostri fratelli protestanti hanno solo il desiderio, punto e basta, che poi diventa il desiderio della donna e delle cose tutti insieme, perché loro si sono ispirati a Esodo 20. C'è questa differenza in fondo, ma c'è anche un'altra differenza all'inizio. Alla linea 15 e alla linea 16 voi notate che i nostri fratelli protestanti hanno messo in evidenza la proibizione delle immagini, mentre ai cattolici non è interessato proprio questa dimensione. E cercheremo di capire anche il perché. perché quando faremo l'esame del testo ci accorgeremo che il comandamento dell'unicità di Dio ingloba anche il comandamento delle immagini. Tuttavia, da 500 anni abbiamo questa duplice lettura del testo. Queste due colonnine lì è un buon modo per ripassare i comandamenti. Bene, noi questa mattina ci dedicheremo solo i primi tre, quelli che trovate stampati in grassetto dalla linea 15 e la linea 18. Sarebbero quattro, per i nostri fratelli protestanti per noi sono tre. Il testo, la traduzione la trovate immediatamente dopo. Perché trovate questa impostazione grafica? Perché tra Deuteronomio ed Esodo ci sono le identiche parole per quanto riguarda i primi due, mentre invece ci sono delle varianti per quanto riguarda invece il terzo. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto dalla condizione servile. Questa è la traduzione per i lettori italiani. Perché se voi andate alla linea 37 lì trovate una traduzione leggermente brutta ma perfettamente alla lettera con il testo ebraico. Il sono, se notate, è sbiadito perché in ebraico non esiste. Io, Yahweh, Dio di te che ho fatto uscire te dalla terra d'Egitto dalla casa dei servi. Capite che in italiano una cosa del genere non funziona. Perciò la traduzione rispetta la lingua di arrivo ma tradisce la lingua di partenza. Mentre questa seconda lettura che abbiamo visto alla linea 37 la traduzione non tiene conto del genio della lingua di arrivo ma rispetta fino in fondo la lingua di partenza. Siamo alla linea 26 lettera B Non avrai altri dei di fronte a me No, Signor Traduzione non è così la vedremo dopo. L'ho fatta io, eh? L'ho fatta io. Però, ovviamente altro è tener presente la lingua italiana altro è tener presente il testo ebraico originale. Non avrai altri dei di fronte a me non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo né di quanto è qua giù sulla terra né di quanto è nelle acque sotto la terra non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai perché io, il Signore, tuo Dio sono un Dio geloso che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. in questo brano abbiamo alcune cosucce da chiarire perché noi non siamo abituati ad avere un Dio che punisce la colpa dei padri nei figli ma ognuno è responsabile per sé anche se poi chiediamo le dimissioni della Boschia di Renzi. Quindi vuol dire che è rimasto dentro di noi un po' di personalità corporativa orientale. Lettera G Non pronuncerai in vano il nome del Signore, tuo Dio perché il Signore non lascia impunito che pronuncia il suo nome in vano. Sembra una tautologia vedremo che le cose sono più gravi di quanto pensiamo. Ed infine abbiamo il terzo comandamento che è diverso leggermente diverso tra testo dell'Esodo e testo del Deuteronomio. Il testo dell'Esodo Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio. Non farai alcun lavoro né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né tuo schiavo, né la tua schiava né il tuo bestiame né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo, la terra, il mare e quanto è in essi ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha consacrato. tenete presente che la linea I e la linea Y sono due linee sposate perché il verbo santificare della linea I e il verbo consacrare della linea Y è sempre in ebraico lo stesso verbo e voi potete benissimo vederlo alla linea 85. Ve l'ho messo dentro al riquadrino in ebraico così potete benissimo identificarlo senza avere il tormentone dell'ombellico. la radice è la radice Kadash naturalmente qui avete il verbo coniugato in maniera diversa ma la radice è sempre lei. Bene torniamo alla prima pagina rispetto al comandamento così come è presentato nell'esodo il Deuteronomio ha infilato le varianti poi vedremo le ragioni di queste varianti perché indicano due momenti storici diversi osserva non più ricordati notate Shamar non Zakar osserva il giorno del sabato per santificarlo come il Signore tuo Dio ti ha comandato e infatti in Deuteronomio voi potete tornare mi dispiace di mandarvi su e giù ma va bene così all'ultima pagina linea 98 guardate i riquadrini notate che sono lo stesso disegnetto si è il verbo ziva in questo caso è caduta l'ultima gutturale e al posto dell'ultima gutturale è stato messo il pronome personale di seconda persona maschile ha comandato a te ziveca va bene dunque voi avete una concezione già molto diversa tra il libro dell'esodo e il Deuteronomio il libro dell'esodo ha come elemento principale kadosh la santità la santificazione mentre l'elemento principale del Deuteronomio è il comando sei giorni lavorerai farai ogni tuo lavoro ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore e tuo Dio non farai alcun lavoro né tu né tuo figlio né tuo figlio né tuo schiavo né la tua schiava e qui avete l'amplificazione nel tuo buo né il tuo asino né il tuo bestiame nel testo originale di Eso c'era solo il bestiame né il forestiero che dimora presso di te perché c'è questa specificazione altro è parlare di un popolo nomade e seminomade altro è parlare di un popolo sedentario Deuteronomio parla di un popolo sedentario e quindi c'è il bestiame grosso i nomadi hanno solo il bestiame minuto motivazione del riposo in Deuteronomio perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te questo è l'obiettivo ricordati lo troviamo qui il verbo zakar mentre in Esodo lo troviamo alla lettera i versetto 8 ricordati del giorno di sabato invece il ricordare il fare memoria in Deuteronomio lo troviamo al versetto 15 ricordati che sei stato schiavo nella terra d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare di osservare il giorno di sabato la lettera doppio V Deuteronomio ho tradotto ti ordina perché provate a mettere ti ha comandato foneticamente è un pugno nell'orecchio ma quel ordina è lo stesso verbo si va che trovate all'inizio bene cosa possiamo dire beh cominciamo subito col dire che non occorre guardare tutti i due i testi nei primi comandamenti basta guardarne uno mentre nel terzo purtroppo dobbiamo vederli tutti e due questa è la prima la seconda è che mentre il testo del libro dell'Esodo ha il verbo caratterizzante kadosh kadash la radice il verbo caratterizzante del Deuteronomio è invece purtroppo il comando l'ordine perché lo devi fare perché Dio te l'ha ordinato non c'è dunque quella elasticità mentale quella motivazione che dà la radice di convincimento che invece troviamo nel libro dell'Esodo nel libro dell'Esodo dunque il comandamento del sabato è accompagnato da un verbo che indica il dono della vita santo significa pieno di vita santificare significa dare la vita contaminare di vita essere vivo il sabato dunque serve perché la nostra vita sia piena questo è lo spirito con cui viene scritto il comandamento del sabato in Esodo mentre invece la redazione del Deuteronomio nasce da un altro tipo di mentalità e questo tipo di mentalità noi lo dobbiamo ripescare alle origini del libro del Deuteronomio chi ha fatto un po' di istituto superiore di scienze religiose sa che nel 622 avanti Cristo un giovane re viene disturbato nella sua vita pacifica da due signori Kelchia e Safan e questi due signori dicono al re guarda noi stiamo ristrutturando il tempio con i soldini tuoi ovviamente però ristrutturando il tempio abbiamo scoperto una sala piena di polvere che i preti non frequentano allora e forse anche oggi la biblioteca e nella biblioteca del tempio abbiamo trovato dice lo scriva Safan un rotolo che è vergine nessuno l'ha mai aperto lo hanno scritto lo hanno riavvolto lo hanno messo lì nessuno l'ha più aperto il re lo legge resta stupito manda i suoi messaggeri dalla profetessa Hulda la quale dice guardate che questa è parola di Dio paura paura folle perché la vita che stava conducendo Israele in quel periodo non era certo il tipo di vita descritto in questo testo Giosia prende il coraggio a due mani e compie una riforma religiosa radicale purtroppo la compie con i metodi di allora e cioè con una violenza inaudita questa riforma religiosa ha grondato sangue in tutte le sue pieghe il metodo era semplice ti adegui sì sei a posto non ti adegui una soluzione di convincimento velocissima andiamo velocemente alla linea 37 questo piccolo verso fa da cappello ai comandamenti normalmente un testo che viene totalmente tralasciato nel momento in cui noi facciamo quando lo facciamo l'esame di coscienza mentre invece sotto il profilo teologico questo versetto è la chiave di volta di tutti i comandamenti cerchiamo di capire che cosa sta sotto e andiamo per gradi in modo da non ingolfare il cervello il primo grado quello della curiosità filologica immediata sta proprio nel verbo essere che non c'è in ebraico la prima parolina che voi trovate nella frase della lettera a ricordarsi che l'ebraico si legge da destra verso sinistra e anocchi è l'io solenne perché se io dovessi parlare al posto di Dio dovrei dire ani ani è l'io comune anocchi lo dice il re lo dice Dio lo dice il profeta subito dopo avete il tetragramma sacro però vocalizzato con le vocali del nome aramaico Shema in aramaico Shema non vuol dire ciò che potrebbe sembrare in italiano Shema in aramaico vuol dire il nome il nome non solo nome il nome perché l'articolo è stato schiaffato dietro l'aramaico è un po' strambo sotto questo profilo hanno preso le vocali di questo nome Shema e hanno infilato le vocali sul tetragramma sacro e a una lettura ignorante verrebbe fuori Yevah se voi dite Yevah in una sinagoga capiscono subito che voi di ebraico non sapete un bel niente e vi cacciano via allora io Yahweh Dio di te Eloheka in ebraico non esiste l'aggettivo possessivo esiste solo il pronome personale e siccome la lingua è agglutinante questo pronome si attacca al nome ed invece di Elohim l'eka viene fuori Eloeka salta la preposizione e il pronome si attacca alla fine del nome ora questo piccolo fenomeno grammaticale trascurabilissimo per quanto riguarda il significato del testo diventa invece fondamentale per quanto riguarda il contenuto del testo perché se noi osserviamo la descrizione degli dei del mondo semitico negli scritti cuneiformi si direbbe io Baal il dio della primavera io ashtarte la dea dell'amore io Yahweh Dio di te potremmo fare l'elenco di tutte le divinità mesopotamiche o cananaiche verrebbe sempre fuori un dato strutturato in questo modo c'è il pronome personale io poi c'è il nome della divinità e poi si dice dove la divinità abita quindi dea dell'amore bene quando c'è un segno affettivo la dea è presente lì quando viene la primavera Baal è presente in quel periodo dell'anno se noi invece abbiamo per esempio Shamash Shamash esiste quando vedete il sole Shamash è il dio del sole la hum quando vedete la luna la divinità esiste perché si trova nella luna si trova nel sole si trova nella primavera si trova nella collina nell'albero sacro nel tempio Dio invece si trova nel popolo dunque io Yahweh Dio di te io ho il mio posto ho il mio tempio nel popolo capite perché per gli ebrei non è importante avere il tempio di di Gerusalemme se c'è meglio se non c'è va bene lo stesso perché Dio è presente in mezzo al popolo quando Gesù dirà dove due o più si riuniranno in nome mio lì sono io non è una genialata di Gesù è un pensiero derivato da questa teologia che